Avete chiesto a gran voce un tutorial completo su MidJourney, la nuova interfaccia web, da qualche settimana disponibile a tutti quanti, e quindi adesso ce la guardiamo tutta e vi faccio vedere ogni singola funzionalità come si usa. Allora, partiamo dalla pagina Explora, ormai come tutti questi strumenti per creare le immagini, come sapete, quando li aprite vi portano una pagina che è un po' una sorta di feed, come se fosse il feed dei social, quindi dove vediamo le cose che hanno creato le altre persone, quindi diciamo scorriamo e ci sono un po' le ultime novità. Qua sopra ci sono i soldi filtri, anche questo è abbastanza standard, ormai diciamo c'è un po' su tutte le piattaforme, con Hot c'è tutta la roba quella più in voga al momento, quindi magari quella che ha più like, che sta piacendo di più e così via, con Random vi mette della roba in maniera totalmente casuale, e poi potete fare anche il top della giornata, il top della settimana e il top del mese, quindi le immagini che stanno andando meglio sulla piattaforma in settimana, mese oppure per la giornata. E se mettete like alle immagini, il like si mette con questo pulsantino qua in basso, la sezione like trovate tutte quelle che avete messo voi, quindi è una sorta di, è tipo come aggiungere i preferiti, no? È una sorta di segnalibro e ve le potete conservare là. Io non le uso da nessuna parte, vi dico, e infatti se vede che è vuoto, no? Su nessuna piattaforma uso i like, perché è una cosa che non mi è mai piaciuta più di tanto. Quando apriamo un'immagine, ah ho fatto del pulsantino qua e faccio pure quest'altro, il pulsantino questo qua invece è una sorta di ricerca automatica con quel tipo di immagini, quindi se io clicco qua mi fa vedere tutte le immagini che contengono un gattino all'interno, ok? Perché ho fatto il click sull'immagine che conteneva il gattino. E come avete visto si è riempito il campo ricerca, quindi vi faccio vedere anche il campo ricerca qui sopra, se io vado qua e scrivo dragon, abbiamo subito tutto quello che riguarda i draghi, ok? Io la uso tantissimo la ricerca, quindi cercate una roba perché magari vi interessa, no? Volete un riferimento e così via. Vi ho fatto vedere quel pulsantino lì sotto, anzi rimaniamo su dragon, che è un po' bello questa immagine, vi faccio vedere cosa succede quando apriamo l'immagine. Quando apriamo l'immagine, vedete qua ci fa vedere la persona che l'ha creata, quindi possiamo andare sul loro profilo, possiamo vedere il prompt dell'immagine originale, possiamo vedere la versione, possiamo vedere l'aspect ratio, quindi il rapporto dell'immagine, possiamo usarla come ricerca, possiamo mettere il mi piace, e qua abbiamo anche la possibilità di copiare una serie di parametri, ok? Quindi il prompt, l'id, l'immagine, c'è il solito report che ci fa dire no, guarda questa immagine è un'immagine magari volgare, un'immagine no, particolarmente aggressiva e quindi la potete segnalare oppure la potete scaricare. Non vi faccio vedere ancora questi tre qua sotto, use, perché lo vediamo un po' più avanti, vi faccio vedere cosa sono le reference, quindi come potete usare le immagini degli altri come base di partenza per creare le immagini vostre, ve lo faccio vedere dopo. Vi voglio far vedere però questa roba, guardo di là ogni tanto perché ho gli appunti da quest'altro lato su quello che vi voglio far vedere. Qua, diciamo, se ci andate sopra, queste sono le stesse cose che ho fatto vedere di là, ok? Quindi le stesse informazioni che ho trovato di là. Se clicco sul nome, ovviamente vado nel profilo della persona, perciò dicevo esattamente come succederebbe su un social, che ne so, come so, su Instagram, su Pinterest e mi vado a vedere tutte le immagini che quella persona ha creata. Magari trovate qualche creator che vi piace particolarmente, no? E volete vedere tutta la roba che ha fatto su MidJourney. Vi faccio vedere al volo, mettiamo proprio al volo così un prompt, perché qua siamo nella sezione Explorer, qua ce ne sono varie, come vedete. Adesso vi faccio vedere che cosa è create. Create è la schermata dove andiamo quando stiamo creando qualcosa, no? Se io quindi faccio a cat, quindi scrivo un gatto, proprio un prompt senza impegno, vedete qua c'è scritto che c'è una creazione in corso, se clicco qua adesso posso vedere quello che sta succedendo, quindi le immagini che sta creando in questo momento. Ovviamente le posso mettere in coda, se ce ne sono più di uno vengono aggiunte qua, quindi a cat, a cow e a house. Le metto proprio così random, poi dopo facciamo dei prompt più decenti, però solo per farvi vedere che scrivo una cosa, vedete si mettono in coda. Quindi nella sezione create ovviamente c'è lo storico, no? C'è pure quello di prima, questo l'avete visto nell'altro video che vi ho fatto vedere. Quindi abbiamo tutto lo storico e possiamo vedere le cose che stiamo creando in questo momento, no? Qua a fianco ci sono anche le informazioni, quindi come al solito la versione utilizzata, il prompt, l'aspect ratio, no? Ci sono un po' di azioni che possiamo fare, quindi il rerun ci permette di ricreare quell'immagine, però questo dopo lo vediamo perché si trova pure in un'altra sezione questa roba qua. In organize, diciamo che organize è lo spazio nel quale abbiamo tutte le nostre creazioni, ma con tutta una serie di funzionalità proprio per organizzarle. Questo ovviamente per chi fa un utilizzo massiccio di Midjourney, crea molta roba, si trova molto materiale e lo deve sistemare, ok? E quindi possiamo creare delle cartelle, io qua non ce ne ho perché ovviamente non faccio un utilizzo professionale di Midjourney per creare immagini, foto, eccetera, però voglio creare una folder e gli dico animals, no? Creo questa cartella e poi mi posso selezionare, vedete anche così, ho fatto proprio col trascina. Qua posso fare, seleziono tutte quelle di oggi, però ci sono anche cose che non sono animali, no? Altrimenti quello che faccio è faccio così, ta, vedete me lo seleziono così, me lo soluziono così, vedete si stanno aggiungendo alla selezione, me la seleziono così e così via. Oppure altrimenti vado sull'immagine e me la posso selezionare direttamente da dentro. Io quindi posso fare questa roba qua, no? E posso prendere queste immagini e me le posso mettere nella cartella. Dopo vi faccio vedere pure come metterle qua, avete visto che si è aperta subito questa roba qua? Dopo vi faccio vedere come lo mettiamo anche nel prompt. Quindi le cartelle per poter organizzare le cose e se avete tante immagini può essere molto utile anche andare a utilizzare i filtri. Quindi potete andare ad esempio a utilizzare i parametri di rating, no? Quindi quelle che sono state piaciute di più, eccetera, eccetera. Il tipo di dimensione, quindi quelle quadrate, no? Quelle landscape, quelle portrait, quelle con la versione che avete utilizzato di mid-journey, eccetera, eccetera. Diciamo, avete vari filtri con i quali potete selezionare le immagini. Qui ovviamente chi ha migliaia di immagini, questa roba è molto molto utile. E poi anche in base al, diciamo, al layout, no? Quindi quelle quadrate, quelle piccoline, quelle grandi e così via. Vado veloce qua, abbiamo la chat. Le chat sono, le chat, non vi devo spiegare che cosa sono, sono chat dove le persone che usano mid-journey, diciamo, soprattutto se avete usato mid-journey nella sua versione precedente, e quindi venite da Discord, sapete che mid-journey ha sempre avuto quella parte di chat molto molto importante, no? Qua ci sono delle chat tematiche, no? Vedete, quindi, temi del giorno, newbies, quindi se siete appena arrivati in piattaforma, general chaos è quella un po' più generica, dove si discute, si condividono creazioni, eccetera, eccetera, e trovate sempre un sacco di immagini che sono state create qui sopra. E poi c'è tasks, questa è una sezione nella quale mid-journey assegna alla community una serie di piccoli task, tipo, che ne so, compilare dei sondaggi, votare delle immagini, no? Quindi vi fa vedere delle immagini e voi dovete dare l'opinione, dei feedback. In un certo senso noi aiutiamo, alleniamo la loro intelligenza artificiale a gratis, e loro in cambio ci regalano cose, no? E quindi in base a quello che fate vi dice earn fast hours, quindi vi regala delle ore, nelle quali potete fare delle, diciamo, delle generazioni veloci, perché le generazioni hanno anche varie velocità in base all'abbonamento che avete. E tra l'altro rimanete fino alla fine, perché dopo vi faccio vedere pure il prezzo di mid-journey, no? I vari pacchetti che ci sono a disposizione. Quindi qua potete fare dei voti, no? Votate le immagini, fate vari task, no? In base a quello che avete scelto, tra le cose che ci sono qua a disposizione. E poi mid-journey vi regala in cambio questa roba qua, quindi le fast hours, quindi vi permette di fare delle immagini più velocemente. Tra l'altro dopo su questo ci torniamo, perché votando le immagini c'è anche un modo per personalizzare l'algoritmo, cioè gli fate capire qual è lo stile che vi piace di più, e c'è una funzionalità che vi faccio vedere dopo che usa quello stile per generare le immagini per voi, ok? Quindi questo vi può tornare utile anche dopo. Allora, vi volevo far vedere il fatto che possiamo utilizzare, diciamo, le immagini e tirarle dentro. Allora, andiamo in, che ne so, top day, le top del giorno. Vedete che io posso prendere un'immagine, appena la seleziono, si apre il box qua dove dobbiamo scrivere il prompt. Questo è il box dove scriviamo il prompt, ok? Vi ricordate? Prima abbiamo scritto a dog, ok? Dopo ci vediamo pure tutti i parametri, non vi preoccupate, ci arriviamo. Adesso vi voglio far vedere che possiamo fare con le immagini degli altri. Quindi prendo questa immagine, la butto qua dentro, si aggiunge qua, e queste sono le referenze, diciamo, che noi possiamo dare a midjourney. Le referenze sono di tre tipo. Se voi passate con il mouse, aspettate che zoom un pochino, che magari non si vede, se passate col mouse sull'immagine che avete caricato, ne potete caricare più di una, dopo lo vediamo, vi fa vedere che ci sono tre tipi di referenze. Vi dice, cosa vuoi? Una character reference, e quindi vuoi prendere spunto dal personaggio? Quindi carichi un'immagine con un personaggio e gli dici, mi devi creare un personaggio simile. Oppure vuoi la style reference, e quindi voglio un'immagine con uno stile simile. Oppure l'ultimo è qua la image prompt, e quindi usalo come prompt per l'immagine che stai andando a creare. Ok? Abbiamo tre opzioni, in base a quando gli carichiamo qualcosa glielo possiamo dire. Vi faccio vedere un esempio al volo, mettiamo che questo lo vogliamo come stile, no? Quindi questa roba un po' così bianca e nera, un po' come se fosse quasi uno sketch. E gli scrivo a dog, faccio un prompt semplice per farvi vedere il risultato. Adesso vedremo cosa succede, ok? Adesso invece prendiamo una roba diversa, prendiamo questo qua dove c'è questa sorta di Joker, no, questo è Harley Quinn, e ci mettiamo il personaggio, character reference. E quindi facciamo a clown in the dark, ok? Con questo personaggio che ovviamente ha un po' le sembianze di un clown. E poi prendiamo l'ultima e ci mettiamo questa qua, questa torta qua. Sono delle torte, che so? Delle tortine alla fragola. Fammi vedere come il... Yummy, elegant, gourmet. Vabbè perché gli ha dato delle immagini come referenze, quindi nel prompt non c'è scritto cosa voleva l'immagine. E qua gli scriviamo solo a cake, ok? E gli lascio questa come reference. E invio tutte e tre. Quindi adesso vedete nel create, ci sono due di tre, ve le faccio vedere. Quindi adesso quando abbiamo fatto a clown in the dark, gli abbiamo dato questa come referenza, e quindi il personaggio è venuto un personaggio simile a quell'iniziale. Invece qua gli avevamo detto che volevamo lo stile, e quindi gli ho detto a dog, ma gli ho caricato un'immagine bianco e nero, come se fosse quasi nuovo, fatto con un tratto a madite, eccetera, eccetera. Quindi ci ha fatto un cane usando quello stile, no? E poi alla fine invece ha usato l'immagine questa qua come prompt. Quindi gli ho detto una torta in maniera generica, ma siccome ho dato un'immagine dove sopra c'era un certo tipo di torta con le fragole, eccetera, eccetera, sono uscite delle torte simili con un frutto simile sopra. Questo è come potete usare le referenze. Le potete pure combinare. Cioè io gli posso dire, gli butto questa dentro e me la metto come stile, e poi gli butto questa dentro e gliela metto come personaggio, e faccio a clown in the dark. Ok? Quindi adesso voglio il personaggio che sia simile a questo, e lo stile simile a questo. Questa è una cosa molto figa quando ho iniziato a fare questa combinazione, sono quelle cose poi che rendono MidJourney lo strumento più amato per chi crea le immagini, no? I veri fan di MidJourney ovviamente parlano sempre di quelli, dicono, vabbè, però c'è una possibilità infinita di fare combinazioni, no? Andare a lavorare con i dettagli. Ed è vero, perché molta di questa roba non c'è su altri strumenti. Strumenti molto fighi, eh, che stiamo usando, di cui parliamo spesso, che ne so, ideogramma recentemente, flax, eccetera, eccetera, che però non hanno ancora queste chicche. E vedete com'è cambiato rispetto a prima? Qua è andato sul fotorealistico, qua invece c'è fatto quell'effetto un po' sketch a matita, un po' bianco e nero, si è tenuto solo il rosso, diciamo, degli elementi principali. E qua potete giocare veramente tantissimo, cioè prendiamoci una cosa, che ne so, io gli potrei dire, voglio dire qualcosa di particolarmente... Che ne so, con dei colori molto forti. Fatemi vedere se c'è un'immagine con dei colori molto forti. Prendiamo questa roba qua, che sembra quasi un quadro, no? Facciamo così. E qua gli dico che gli metto a car in the street. E gli metto che lo voglio come stile. E posso fare delle cose veramente carine. Oppure gli metto questo qua, vedete? Questo come stile molto molto bello e faccio... Two friends smiling. Vado qua, vediamo cosa ci sta caricando in questo momento. No, ricordate che abbiamo usato in entrambi i casi lo stile e questo sembrava una sorta di, diciamo, di dipinto. E quindi adesso mi aspetto che la macchina che viene creata sia una macchina che mi ricordo in qualche modo questo stile qua. Vedete, vi ricordate, prima parlavo della velocità, eccetera, avete visto? Ovviamente in base... Io c'ho l'abbonamento quello base, che non è velocissimo. Vedete? Questa è le immagini che ci ha creato, le ha fatte in quello stile là. Come se fosse un dipinto fatto a mano. E qua abbiamo invece questi due amici che sorridono, un po', sembrano quasi da psicopatico. Fatto in questo stile di gattino, come se fosse fatto a matita, no? Schiacciato molto velocemente. Questa è una cosa che vi consiglio di usare, di smanettare, fate un sacco di combinazioni perché possono uscire delle cose veramente super carine. E poi è bello perché ovviamente partire da qualcosa che ha creato qualcun altro. Quindi dite, mamma mia quanto è bello questo stile, ve lo pigliate, ve lo tirate dentro e voi lo fate in maniera diversa, no? Magari fate così e gli fate Batman... Che gli posso dire qua? Batman looking at the camera. E gli metto questo come stile. Giusto per farvi vedere un altro esempio, però avete capito dove sto andando a parare. Una cosa che non vi faccio vedere in questo video, in questo tutorial, che per la lunghezza diciamo sarà un tutorial bello lungo, probabilmente quasi un corso gratuito qui sopra, è la parte di parametri, ok? La parte di parametri di Mid Journey è una delle sue funzionalità principali, però vi avevo detto che questo è un video sull'interfaccia web, voglio concentrarmi sull'interfaccia web. Per la parte di parametri io vi lascio il riferimento ufficiale qua sotto, ve lo metto in descrizione, perché questa è proprio la lista di parametri che ho trovato sul sito di Mid Journey, ok? E come vedete ce n'è veramente un botto, c'è veramente un botto. Quindi vi mettete, ve li guardate, ve li studiate e la cosa migliore è ci smanettate, però se vi metto a vedere i parametri questo video diventa infinito e poi non è l'obiettivo di questo tutorial perché mi voglio concentrare sull'interfaccia. E poi i parametri, so sempre quella roba un pochino più da smanettone, quindi magari non tutti quanti sono al loro agio, invece voglio farvi vedere cose che potete usare senza dovermi metterla a scrivere codici che sembrate un, diciamo, un programmatore. Avete visto che io non ho fatto niente, ho scritto dei prompt e ho premuto dei pulsanti, lo sto usando nella sua modalità più semplice. Ecco qua, vedete, quindi adesso ci ha fatto, in questo stile qua, ci ha fatto Batman che guarda alla camera. Quindi abbiamo detto, niente parametri, vi faccio vedere... Ah, vi faccio vedere cosa possiamo fare sulle immagini che abbiamo creato. Ecco, questo è super interessante. Apriamo un'immagine che abbiamo creato noi, facciamo un'immagine, partiamo da questa, va che è quella un po' più fotografica, ti faccio vedere qua sotto quanta roba c'è. Anzi, prima di farvi vedere questo, questo è il momento di like e commento tattico. Non ve lo devo dire più, ormai sapete già cosa significa quando dico like e commento tattico. Saranno un quarto d'ora, venti minuti che siete già all'interno di questo tutorial. Avete visto che vi sto facendo vedere tutti i singoli pulsanti a uno a uno, in super dettaglio, mi avete chiesto questo tutorial, è arrivato un mi piace, me lo merito, è proprio fuori discussione. Il mi piace lo voglio a prescindere. E poi ovviamente il commento tattico, perché ormai sapete che YouTube vede i commenti come segnale di oh, questo video è interessante, la gente lo deve vedere, lo dobbiamo mostrare. Quindi potete pure mettere, che ne so, viva Batman, Raffaele ti voglio bene, viva i pelati, commento tattico, vedete quello che volete voi, il pipistrello che è il nostro grande classico. Però lasciate il commento qui sopra così, papapam, il video viene visto da molte più persone su YouTube. Quindi vi dicevo, quando andiamo qua sotto, ci abbiamo un botto di opzioni. Vedete qua sotto ci sono quelle che sono le action, ok? Ve le zoom un pochino, che magari non si vedono sul... Oh, aspettate, qua c'è questa cosa che è comoda, ma è scomoda a volte. Se andate di lato e scrollate col mouse, come sto facendo in questo momento, vi cambia tutte le immagini. Però a volte date una botta di mouse e bene cambia 500 e vi incartate. Allora, se andate su ogni immagine vi fa vedere anche una piccola descrizione. Quindi la prima vi dice che serve per variare, quindi fare immagini simili a quell'iniziale, ma con delle piccole differenze. E avete due alternative, potete farle o subtle, quindi no, sottili, diciamo così, quindi leggermente diverse, oppure strong. Quindi facciamolo subtle e lo facciamo partire. Vedete? È partito già qua. E poi facciamo strong e facciamo partire pure questa. Quindi ne abbiamo due, adesso vediamo le due versioni modificate. E poi abbiamo Upscale. Upscale cosa ci permette di fare? Upscale ci permette di creare un'immagine più grande, una versione più grande dell'immagine che abbiamo appena creato. Magari perché ci dovete stampare una maglietta, no? Ci dovete fare un manifesto, vi serve una versione HD per farci qualcosa. Andiamoci a più alle nostre. Ve lo faccio vedere su un'altra, però. Dove voglio fare l'Upscale che magari rende di più l'idea. Prendiamo questa qua che era venuta molto carina. Vi faccio vedere Upscale. Quindi anche qua, di nuovo, no? C'è subtle oppure c'è creative. Quindi se faccio subtle e se faccio creative, vediamo cosa cambia. Torno qui, vi faccio vedere... Di qua avevamo fatto quello della torta, ok? Vi ricordate? Quindi qua c'erano le due varianti. Vedete? Quindi qua abbiamo la versione... Aspettate, fatemi aprire quello che facciamo prima. Vedete? Ce lo possiamo scorrere così. Qua ce l'abbiamo tutto di là, è comodo. Abbiamo le varianti della torta. Quindi stesso concetto, la torta è molto simile, il colore è molto simile, eccetera, eccetera. Su qualcuno c'è stata messa la fragolina di bosco, su qualcuno c'è stato messo un'altra frutta e così via. Io non mi ricordo mai come si chiamano i frutti di bosco, perciò non sto dicendo i nomi, perché non mi ricordo mai le differenze tra i veri frutti di bosco. Questa è una cosa che vi confesso così al volo mentre registro. Cioè non mi ricordo mai come si chiama uno, come si chiama l'altro. Se li vedi per me sono tutti quanti uguali i frutti di bosco. E poi vi faccio vedere invece questo qua che stavamo facendo, dell'upscale, no? L'upscale abbiamo la versione grande, diciamo, ad alta risoluzione, no? E oh, cazzo. Questo scroll qua è terribile. Quindi diciamo, se mi scarico questa, questa è un'immagine ad alta risoluzione. Quindi ci posso fare per esempio delle stampe, eccetera, eccetera. Torniamo nel mio create. Mi vado ad aprire un'altra delle immagini che abbiamo fatto prima. Apriamone una diversa, che ne so, questa è della mucca. Quindi abbiamo visto le prime due, no? Quindi per fare le modifiche, quindi per fare delle variazioni, o meglio, per fare l'upscale. Poi abbiamo more, rerun, ci fa semplicemente, ci fa ripartire il prompt, ok? Quindi lo premo e fa rifare direttamente la stessa cosa. Questo è. Editor, ci arriviamo tra un attimo, perché Editor si apre un mondo di cose che possiamo modificare. Quindi diciamo, ci arriviamo un pochino tra un attimo. E poi, aspettate, vi faccio vedere un attimo il risultato di questa qua, che abbiamo fatto della mucca. No, ci vuole ancora un pochino. Eccola qua, sta creando. Quindi rerun riparte direttamente allo stesso prompt, ok? Quindi se lo volete fare più volte per vedere cosa vi genera. È quello che abbiamo anche su altre piattaforme, no? Che si fa semplicemente il pulsantino tipo, aggiorna, e ci fa rifare lo stesso prompt, lo stesso prompt, e così via all'infinito. Adesso apriamoci quindi di nuovo una delle immagini che abbiamo creato. E qua abbiamo Use. E qua abbiamo praticamente la referenza, no? Quelle che vi ho detto prima. Quindi questa immagine la posso prendere e buttare qua dentro. Ma se clicco qua, mi dice pure usala come stile, usala come prompt, usala come riferimento, come immagine. Quindi se io faccio style, vedete, ha fatto esattamente questa. L'ha buttata qua dentro e mi ha già preselezionato lo style ref, ok? Oppure character ref, oppure image prompt. Quindi è esattamente la cosa che faremo da qui, ma la potete fare pure qui sotto. Una cosa che non tutti quanti sanno, perché non si nota questa cosa, è che voi se andate su More Option, questo menu ve lo potete personalizzare. Cioè se una cosa non la usate, la potete nascondere, no? Dite, vabbè, a me questa cosa non mi serve. Così come potete aggiungere pan, zoom e remix. Vedete? E ve lo fate super completo. Quindi pan, zoom e remix. Pan e zoom sono facili da spiegare, perché zoom vi fa semplicemente la versione più grande. Quindi questa qua la zoomiamo, no? Due per, l'abbiamo inviato. Oppure pan, che ne so, lo spostiamo più in basso, no? E abbiamo inviato pure questo. Quindi adesso vediamo due versioni con questa modifica. E poi vi faccio vedere l'altra invece che è remix. Allora, se andiamo qua, eccola qua. Questa è la versione con lo zoom, vedete? Quindi possiamo avere un'immagine più completa della mucca in questo caso, no? Quindi prima avevamo solo il volto, adesso invece di quel volto abbiamo tutto il contesto intorno. E qua invece abbiamo fatto il pan, quindi abbiamo visto tutto quello che c'è, in questo caso tutto quello che c'è sotto. Quindi io qua avrei potuto vedere quello che c'è di lato, no? Quello che c'è sopra e così via. E la cosa che vi stavo facendo vedere prima, poi qual'era invece che qua abbiamo anche il remix. Remix cosa ci dice? Ci dice, puoi creare delle immagini nuove a partire da quelle che hai già creato con delle piccole differenze di prompt. Anche qua abbiamo subtle e strong, quindi qua gli posso dire remix con subtle, ma vedete qua ci mette anche il prompt. Quindi rispetto a prima che cliccavo il pulsante e partiva, qua devo scrivere, quindi qua potrei fare a happy cow, per esempio, no? E gli do l'invio. Quindi modifico leggermente il prompt e non è una variazione dove posso dire solo subtle oppure strong. Quindi qua in questo caso, oltre ad aver preso la mucca originale come riferimento, ho messo anche che questa mucca deve essere felice. E adesso mi immagino che nel risultato finale, no, sta mucca non è per niente felice, mannaggia la miseria. Aspetta, fatemi provare. Lo faccio solo perché è uscita una mucca tristissima. Quindi fatemi provare con strong e fatemi provare con, ops, io ho detto strong e voglio mettere, invece di happy, voglio dire a smiling cow. Vediamo se è così, no? Una mucca che ride rispetto a una mucca che è felice, magari è più esplicita come cosa. Non fa niente, se non esce vado avanti, non vi preoccupate. Però era solo la curiosità di aver messo happy cow e mi è uscita la mucca più triste del mondo. Cioè mi è uscita più triste di quella di prima. Quindi vediamo se mettendo smiling invece magari esce qualcosa. Anche perché poi era mucca fotorealista, quindi ho sbagliato io, avrei dovuto prendere una mucca più in stile magari cartoon e così via. Vediamone una che è un po' cartoon, ce l'abbiamo? Va bene, non fa niente, voglio andare avanti, se lo metto a fare mostre prove, mi intrippo in questa cosa e metto a fare io le prove. E quindi questa l'abbiamo vista tutta. Vi faccio vedere anche la creazione di un'immagine con del testo. Per esempio potremmo dire A funny dog holding a sign with the text. Metti like. No? Questo è un grande classico che faccio quando faccio i tutorial, le demo, sui video, sugli strumenti di creazione di immagini. Creo sempre qualcosa che vi ricorda di mettere like. Vediamo cosa ci crea in questo caso. Ovviamente qua non gli ho detto lo stile, quindi avrei dovuto dire che magari lo volevo in stile cartoon animato. Però vedete col testo se la cava benino, secondo me non all'altezza di ideogramma che sul testo è numero uno. Però vedete questa non ha errori, questa un po' si è persa su questa seconda T, qua un T ci manca proprio, questa è fatta abbastanza bene. Questa qua forse è la più carina, la più simpatica, se non l'avete messo prima, questo è un ottimo momento di ricordarvi di mettere like. Perché se ve lo dice un cagnolino così non so come fate a resistere. Vi faccio vedere le impostazioni, no? Perché abbiamo detto che ovviamente quando apro qua ci sono una valanga di impostazioni qui sopra. Allora, image size è quella più facile da capire. Ovviamente possiamo fare portrait, no? E quindi diciamo quella per capirci, no? In verticale, square che è quella quadrata, quindi rapporto uno a uno, e landscape che invece è quella in quattro terzi. Oltre a queste qua per impostate, voi potete anche farle in maniera più, no? Vedete, potete farlo anche in maniera un po' più esplicita. Quindi volete il 9 sedicesimi perché magari dovete fare delle storie per Instagram, la copertina di un TikTok e così via. Oppure volete una cosa molto lunga perché ci dovete fare, no? Qualc'altro tipo di azione. Questo per esempio potrebbe essere fatto molto bene per i passaggi. Quindi qua potremmo dire a sunset in Tuscany. Vediamo cosa ci crea con questa modalità così. Quindi qua mettiamolo quadrato per esempio. Qua vi faccio vedere sul modello. Sul modello potete scegliere la modalità. La modalità row è quella che consigliano di utilizzare, diciamo, vi toglie un po' di filtrini di mid-journey. Ok? Passatemi questo termine non tecnico. E l'immagine ve la fa un pochino più grezza. Loro lo consigliano quando magari dovete fare immagini fotografiche, no? Quando volete un certo tipo di fotorealismo, eccetera, eccetera, consigliate di passare al row. Version? Potete usare la versione del modello. Questa è una cosa che non c'hanno tutti quanti, eh? Questo può essere carino per vedere come si è evoluto mid-journey negli anni. Quindi mettete un prompt, vedete, dalla versione 1 alla versione, l'ultima, la 6.1 nel momento in cui registro, le varie modifiche. Ovviamente io uso sempre l'ultima, sempre la 6.1. E poi vi ricordate che vi ho detto che c'è la possibilità di personalizzare? Ecco, qua in Personalize, voi potete, se mettete Personalize a On, l'EI, diciamo, ha imparato, in base a quello che voi avete messo nei task, vi ricordate qua in task potevamo dire le immagini che preferiamo, e quindi usa quel dato per personalizzare leggermente le immagini che vi crea, ok? Andiamo a vedere qua cosa ci ha creato. Eccolo qua, vedete, quindi ci ha fatto una bella immagine così, stretta e lunga. Tra l'altro questa veramente molto molto bella, eh? Vabbè, mi gironi tanta roba, cioè non è che ve lo devo dire io, è il tool più amato dell'universo, quindi si sa. Vi faccio vedere anche gli ultimi parametri che sono rimasti. Qua abbiamo la velocità, fast and turbo, e poi dopo quando parliamo di prezzi andiamo a vedere pure quanto costa, no? Quante ne avete veloci e così via. E poi ci sono questi tre parametri. Questi sono parametri che normalmente uno metteva con, diciamo, proprio con i parametri nel prompt, soprattutto quando si usava su Discord. Adesso invece abbiamo delle comodissime barrette che possiamo selezionare. Allora, abbiamo stylization, che in un certo senso potremmo dire quanto volete che l'immagine sia artistica, ok? Passatemi questa semplificazione. Abbiamo weirdness, che invece vi dice quanto volete che le AI debba sperimentare, ok? Per esempio se io faccio una weirdness molto alta e qua ci metto a bear, ok? Quindi un orso. Sto guardando la serie The Bear in questi giorni. L'avete vista? Bellissima. Se l'avete vista, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. A me mi sta piacendo un sacco. Con questo quindi quanto deve sperimentare le AI. E poi variety invece, siccome vi creano, avete visto quattro immagini ogni volta che date un prompt, aumentando questo parametro gli dite quanta variabilità volete nei risultati. Cioè se faccio variety basso e qua metto a beautiful woman e lo lascio con variety basso, poi lo rimetto e metto variety molto alto e gli ridò pure questo. Vi faccio vedere. Allora, vedete qua innanzitutto com'è stato molto diverso? Vedete? Questo è quello che abbiamo detto prima, ok? Sull'uso della sperimentazione delle AI. E poi qua, quindi con la parte di weird che abbiamo scelto prima. Invece qua abbiamo detto con variety le immagini che mi crea, le quattro alternative che mi dà sono molto diverse tra di loro, ok? Vedete come qua è andato proprio qua? Sono quattro donne diverse. Ma qua è andata proprio in quattro stili diversissimi, no? Qua mi ha fatto una roba che sembra uscito da un manga, no? Questo sembra uscito da un cartone, eccetera, eccetera. Quindi diciamo potete spingere le differenze molto molto all'estremo. Ho detto che vi faccio vedere anche il prezzo. Allora, il prezzo, eccolo qua. I piani che avete a disposizione. Io ho il piano questo qua, basic, da 10 dollari al mese. Limitazione generata, generazione limitata, quindi circa 200 al mese. Ci avete un po' di limiti dal punto di vista di uso commerciale. Potete fare fino a tre immagini in contemporanea e così via. Con la versione da 30, quindi standard, invece ci avete 15 ore di fast generation. Unlimited relaxed generation, quindi quelle relax sono quelle, diciamo, sono le più lenti in assoluto, ma ce ne avete illimitate, eccetera, eccetera. Vabbè, non mi metto a leggere tutto qua, ma c'è il piano da 60, il piano da 120, dove aumentano anche le immagini che potete creare in contemporanea, no? E poi vi aggiungono, ovviamente, altre opzioni in più. Quindi 10, 30, 60, 120, ovviamente queste qua insieme diventano costosetti, soprattutto siccome avete più di un abbonamento delle AI per creare le immagini. Ah, tra l'altro, siccome io ho fatto un video dove vi ho detto quale abbonamento pagare, ma abbiamo parlato del testo, no? Quindi c'è GPT, Cloud, eccetera, eccetera. Lo volete un video come quello, ma per le immagini? Potrebbe essere utile pure quello, mo' che ci penso. Un video dove vi dico quale AI pagare, ma per le immagini. Cioè, se c'ho Ideogram, Midjourney, Firefly, da lì, eccetera, eccetera, quale mi conviene pagare? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi può interessare. Io c'ho quella da 10, perché c'ho anche altri abbonamenti, e poi diventa veramente costosa come cosa. Ricordatevi che potete supportare questo canale, visto che stiamo parlando di soldi, semplicemente premendo il pulsantino Grazie qui sotto. Se non lo trovate, dovete cliccare sui tre puntini, perché qualcuno mi dice, ma dove sta sto pulsante Grazie, Raffae? Cliccate sui tre puntini, c'è scritto Grazie, e potete scegliere voi quanto volete donare. Anche un paio di euro. E come offrirmi un caffè? Faccio questo esempio, perché se mi beccate di persona, sicuramente mi volete offrire un caffè, e me lo potete offrire anche virtuale. Altrimenti, se proprio volete esagerare, no, potete fare l'abbonamento, che è semplicemente un caffè offerto tutti i mesi. C'è il link qui sotto, pure di quello. È una donazione che viene fatta in automatica ogni mese. Tutto qua. Vi faccio vedere, anzi, vi accenno velocemente una cosa, no? Primo ho detto questo. Fatemi aprire un'immagine dove c'è una persona, magari che con una persona è più facile da fare. Ah, no, vi faccio vedere questa qua, che poi la modifico. Quando voi cliccate su un'immagine, e tra le opzioni che c'erano qua sotto, vi ho detto che c'è questa qui, Editor, che apre una funzionalità nuova a sé. Perché Editor ci dà la possibilità di fare l'in-painting e l'out-painting. Che significa? Significa che io posso andare dentro un'immagine e fare una modifica. Come? Vedete, con questo barretta qua sopra posso cambiare la dimensione del mio cursore. E per esempio posso cancellare questa roba qua, no? Gli cancello tutto lo sfondo che ho creato in questa immagine. Cancello tutto, cancello tutto. Eppure qua. Ci metto un atto, eh? Non vi preoccupate. E posso cambiare quello che vedo in questo sfondo. Quindi diciamo, sul prompt che ho messo qua di lato, gli posso mettere casual attire, room full of people. Quindi invece room full of people, this shows, faccio così, in the background, in the background, there is, non lo so, a field full of trees. Ok? E facciamo submit. E quindi potete vedere che potete modificare un'immagine andando all'interno. Ok? Quindi potete prendere qualsiasi immagine, ci fate proprio così sopra, ci scrivete quello che volete, e quell'immagine viene trasformata. Adesso ci saranno degli alberi dentro questa immagine. Si vedono perché sono leggermente sfocati, però sono degli alberi. Sì, qua si vede forse un po' meglio, però sono degli alberi. E questa parte qua, cioè tutto l'editor qua, che ha una valanga di opzioni, ci ho fatto un tutorial a parte, che se non l'avete visto è bellissimo, ve lo metto adesso a schermo, così non lo faccio due volte. Cliccate sul video e andate a vedere quest'altro pezzo di come usare mid-journey nel quale potete capire come fare le modifiche di qualsiasi tipo a qualsiasi immagine. Secondo me è una figata. Cliccate il video.